Buonasera a tutti, buonasera a tutti quelli che ci seguono sul sito di Radio Potenza Centrale, che proprio oggi Savero ci ha dato conferma che siete numerosi. La volta scorsa ci siamo lasciati con l'argomento della rivolta di Masaniello a Napoli e con le prime ravvisaglie di briganti in Basilicata. Maestro Giuseppe, quest'oggi invece cosa ci vuole raccontare? Vogliamo continuare su questo filo oppure ci racconta qualche altra curiosità? Sì, ci saranno altre curiosità importantissime però che sono conseguenti a questo evento della rivolta a Masaniello perché noi abbiamo detto che anche in Basilicata e in tutto il Regno di Napoli si estese questa rivolta nei confronti dei baroni e dei conti e tutti i feudatari che opprimevano la povera gente. Allora daremo un seguito perché ci saranno delle cose molto importanti da aggiungere. E allora queste saranno le mie curiosità e le vostre curiosità storiche di oggi. Io comunque ringrazio tutti voi, ringrazio la dottoressa Paola con, come sempre, il sito di Potenza Radio Centrale e il nostro Saverio Lorusso. Dunque, come mi ha introdotto la dottoressa dicendo oggi che curiosità è dare seguito a quanto detto e che si verificano appunto queste manifestazioni di brigandaggi perché la dottoressa ovviamente era stata sottoposta ancora di più per le cambelle. E allora che cosa avvenne? Che diciamo, come abbiamo detto, che i brigandi fermarono anche il presidente dell'udienza di Basilicata che si recava da Salerno per la nuova sede di Stigliano perché la prima sede della capitale di Basilicata fu appunto designata Stigliano. Ma questo passaggio importante è dovuto al fatto che la nostra provincia che non aveva questa autonomia, pensate un po', fu merito l'interessamento di una donna che, se vogliamo, l'abbiamo sempre così, molto snobbata, le vicende storiche che sono apparse un po' in proporzioni minima rispetto agli uomini, però in questa circostanza veramente si fa valere questa principessa Carafa di Stigliano che fidanzatosi con il vice re di Napoli fece del tutto di fargli prendere la situazione in mano della nostra situazione giuridica che non aveva la sua autonomia. Allora disse tu devi cercare di convincere il tuo re che noi finalmente dovremo avere per diritto una nostra autonomia non possiamo dipendere da Salerno. E questo comunque tanto fece la fidanzata, la principessa, con il vice re di Napoli che ottenne l'indipendenza dalla Basilicata al momento che fu mandato questo presidente da Salerno che poi, l'abbiamo già detto, che fu aggredito dai briganti e poi, insomma, fu liberato. Ma questa cosa che cosa avvenne? Avvenne che in quel periodo questa rivolta fu assedata e però, diciamo, la continuità di questa rivolta vogliamo mettere in essere anche e soprattutto le vicende storiche anche della nostra città lucana che allora era stata sacrificata presso la terra d'Otranto. Ecco, allora quello che successe qui a Potenza con la rivolta Masaniello a Matera era successo già prima durante la contea del Conte Tramontana quando il Conte Tramontana aveva anche lui sottomesso la povera gente a pagare cabelle a non finire ma un fatto scandaloso fece, diciamo, traboccare il bicchiere dall'esagerazione di questo cabello perché il fatto scandaloso si verificò nel 1501-1502 quando il Conte, per dare uno sfarzo maggiore alle sue dame della contea fece venire da Napoli stilisti per confezionare gli abiti a queste dame. Questa spesa fu eccessivamente molto esosa e che comportò ovviamente tante spese che si sono ripercuotete sulla povera gente che hanno dato, sono state sottoposte altre cabelle più pesante e tanto che non ne poteva più la gente fece una rivolta e assalì il castello e molti perirono e tra questi perì anche il Conte. La Conte è rimase senza il Conte e poiché il feudo di Matera era stato già segnato alla terra d'Otranto e pensate un po' da quanto tempo è stato soppresso questo feudo dalla Basilicata alla terra d'Otranto? del 1291 1291 scusate 1291 durante il regno di Carlo II d'Anciò detto lo zoppo che è sposatosi il figlio che era Conte di di Taranto per fargli un regalo al figlio il re Carlo II d'Anciò pensate gli fece un regalo donandogli il feudo di Matera e allora da questo momento il feudo di Matera passa alla terra d'Otranto ed ecco che questo feudo già mortificato la nostra provincia perché anche geograficamente era ridotta all'Umicino perché mancando anche questa città geograficamente era stata rimpicciolita ancora di più ma non mortificò solamente la città di Matera perché la Contea poi fu retta dal stesso Conte di Taranto che era il Duca il Duca Antonio Orsini che già ne abbiamo parlato che era il cognato di Piro del Balzo Conte di Venosa che aveva sposato il Conte Piro del Balzo la sorella di questo arciduca di Taranto che si chiamava Maria Donato Orsini dunque questo arciduca detenne anche la Contea oltre il feudo anche la Contea e da da questo punto di vista insomma la situazione si è aggravato adesso tornando a questo periodo detto di Masaniello che oltretutto c'è anche questo evento importante cioè che finalmente la Basilicata ha una autonomia grazie alla principessa Carafa che convince a sua volta il vicere il suo fidanzato e a sua volta il vicere convince il re di Napoli e otteniamo questa indipendenza della nostra Basilicata e che chiaramente da questo punto di vista il presidente dell'udienza di Basilicata fa tutti i giri dei maggiori paesi della Basilicata per avere una seda definitiva ma tutti non lo vogliono perché è un personaggio scomodo anche perché va a a verificare i propri feudi anche le proprie magagne e anche a Potenza si verificò la stessa cosa che non fu accettato bene e fece il giro tra Lago Negro Monte Piloso o attuale Irsina e anche Pignola ebbe l'onore di avere però pure lì successo la stessa cosa allora la principessa Carafa ritornando sull'argomento disse l'unica città che può essere idonea per ospitare il presidente dell'Unione della Basilicata è Matera ma sta in terra d'Otranto allora si prodicò di nuovo a poter far scorporare il feudo di Matera dalla terra d'Otranto e fu inserita e fu nominata capitale e ebbe la sua autonomia con il presidente che ebbe la sede definitiva nel 1663 a Matera perché la legge di questa autonomia avvene nel 1642 però quella definitiva con Matera era nel 1663 signor Giuseppe prima del 1663 non avevamo l'autonomia sì noi avevamo l'autonomia è una domanda importante e interessante perché così si pensa che la nostra Basilicata in buona sostanza non aveva avuto mai la sua autonomia invece no tutto al contrario allora come abbiamo detto che gli Aragonesi fecero tante cose buone ma fecero anche questa cosa qui di abolire la nostra autonomia che è poi istituita già molti anni prima dai normanni i normanni istituivano il giustiziere il giustiziere di ogni regione in modo che c'erano gli statuti da rispettare che erano state allora c'era una propria autonomia con il giustiziere allora noi avevamo il giustiziere di Basilicata che controllava e amministrava tutte le leggi istituiti da queste normanni e che poi sono stati anche conservati durante il regno Svevo con Federico II perché li migliorò anche queste leggi del giustizierato e continuarono anche con Carlo Danciò ecco quando invece il regno aragonese nel 1443 e benedetto con Alfonso d'Aragona nel 1445 circa fu cambiato fu abolito questo giustizierato e istituirono il reggio la reggio udienza che era nella capitale del regno e le leggi erano guidate per tutto il regno da questo presidente dell'udienza del reggio era un unico e dettava legge su tutto il regno ed ecco questo era il problema allora ogni cosa che si doveva risolvere veniva risolta a monte dal regno ecco allora prima esisteva ed esisteva questo giustizierato importantissimo che ha dato tanto allora voglio dire che Matera è stata anche un po' diciamo ha avuto questi grossi problemi annessi anche perché comunemente diciamo si dovrebbe apprendere pure questi passaggi storici per togliere anche questi rapporti che nel passato sono state anche con molte ombre molti dissensi dissidi e queste cose qui perché non si conoscono certi passaggi di alcuni ma se si conoscerebbe poiché alcuni hanno sempre ritenuto Matera non è Lucana appartiene alla Puglia invece non è vero era Lucana e Lucanissima e che fu forzosamente estrapolata dalla nostra regione per questa volontà di questi per i regnanti allora facevano il bel e cattivo tempo come volevano loro ecco questo è quello che io mi sento di riportare anche oggi questo piccolo passaggio storico importante dalla anche ricordando quello che mi hai giustamente domandato questa autonomia e che questa autonomia esisteva con i giustizierati e noi io penso che anche stasera ci fermiamo ai giustizierati di Basilicata e ringraziamo tutti anche ringrazio a te Paola e il nostro Camera ma e tutti gli altri compreso Radio Potenza Centrale Sì io la volevo ringraziare per queste curiosità di cui ci ha parlato oggi e anche l'altra volta ho dimenticato di dirlo lo dico adesso anche perché fa piacere che ogni tanto dedicate uno spazio anche alle donne oggi con la principessa Carafa e la volta scorsa con le donne che assalirono il Palazzo Loffredo chiusa questa parentesi ringrazio anche Savero per le riprese e è vero grazie grazie